...a una balletta d'eccezione. Signore e signori, un applauso incredibile per Alessandra! Allora, dunque, prima performance, Miss For Fear, di Pink Floyd, suonata da Dario e da Federico, Canta! Canta qui questa canzone... Allora questa canzone correrebbe un po' di silenzio, perchè è una canzone intime che sono analizzate. Quindi, risultando tutti voi. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.